Eppur si muove la frase che avrebbe pronunciato Galileo Galilei davanti al tribunale dell'inquisizione ora la contesa non è sulla terra che ha apurato giri intorno al sole ma sulle popolari venete e qualcosa in queste ore si sta muovendo. Dato per assodato che il governo non intende forzare la mano con la comunità europea il sistema bancario è costretto a far da sé per evitare che gli scricchioli del palazzo mirino la tenuta. In campo con un ruolo da playmaker in queste ore ci sono Unicredit e Intesa San Paolo dunque potrebbero essere proprio i colossi bancari a muoversi per impedire la risoluzione o il bail-in delle venete. Le grandi banche pare appunto Unicredit e Intesa sono disponibili a stanziare quel miliardo e 200 milioni di liquidità che servono appunto per poter consentire alle banche popolari venete di accedere alla ricapitalizzazione precauzionale. Altre buone notizie per i risparmiatori arrivano dal fronte Consob. Sono tre le pronunce contro il popolare di Vicenza che riconoscono appunto un risarcimento che va dal 60% sino addirittura al 100%. La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, quell'ente a cui spesso è stato imputato un mancato controllo e acquistando alle inchieste non sempre gli istituti di credito veneti avrebbero fornito ampia collaborazione, ora si pronuncia dunque a favore dei cittadini. Di due risparmiatori chiamati in gergo scavalcati, quelli che avevano tentato senza riuscire a divendere le azioni e di una psicologa. Nel provvedimento si legge che era una psicologa e quindi appunto un soggetto con nessuna conoscenza ed esperienza in materia finanziaria. Insomma se la Consob dice che un laureato non ha una preparazione sufficiente per acquistare delle azioni, forse anche gli altri risparmiatori hanno qualche possibilità di ottenere i rimborsi. Qualcosa insomma si muove.